Professor Di Perry, queste due immagini ci ricordano che l'epoca dei vaccini viene datata alla fine dell'Ottocento. Da quel momento la storia delle malattie infettive è cambiata per sempre e miliardi di vite sono state salvate. I vaccini sono stati una delle pietre miliari della storia dell'umanità, secondo me, ed è vero che hanno cambiato la storia delle malattie infettive, ma questo ha anche implicato una svolta per la storia dell'uomo. Chissà dove saremmo adesso se non ci fossero mai stati i vaccini? Beh, avremmo sicuramente una mortalità infantile molto più alta, avremo un rimodellamento demografico diverso rispetto a quello attuale. Credo che lo spostamento delle priorità dell'attenzione scientifica, medica, diciamo, di tutte quelle proposizioni di prevenzione e terapia che facciamo sulle malattie sarebbe diverso. Oggi siamo sul cardiovascolare, sul metabolico, sulle disfunzioni d'organo, sull'aspettanza di vita che vede per esempio il nostro paese nelle prime dieci posizioni. 83 anni e mezzo. Rischiamo oggi di morire molto meno di una serie di malattie che magari abbiamo già prevenuto in età infantile con i vaccini e andiamo verso la prevenzione cardiovascolare, l'attenzione alla dieta, tutta una serie di misure che 100 anni fa non facevano quasi minimamente parte del nostro quotidiano. 100 anni fa l'ospedale come quello in cui lavoro era diviso in padiglioni, uno dedicato alla difterite, uno alla polio, a quelle che potevano essere altre malattie trasmissibili per evitare i contagi crociati. Oggi tutte queste malattie, quasi tutte sono prevenibili con il vaccino per cui ci si occupa d'altro. Purtroppo d'altro c'è anche in materia infettivologica. Anche nelle malattie infettive sono stati, sono nati nuovi problemi negli ultimi 30 anni, almeno una trentina che a vario titolo vengono combattuti con vaccini, con farmaci, con atteggiamenti preventivi. È una lotta continua, c'è sempre un nuovo invasore. Siamo 8 miliardi, eravamo 4 miliardi 50 anni fa. C'è un rimodellamento, ambientale, umano, comportamentale, tecnologico che indubbiamente ci porta sempre a nuove sfide. Con la diffusione dei vaccini molte nazioni hanno introdotto programmi di salute pubblica come le campagne vaccinali. La sua esperienza sul campo che cosa ci suggerisce? Ma ovviamente i vaccini sono strumenti di prevenzione, strumenti di prevenzione che fanno appunto riferimento a quella che è la salute pubblica. La salute pubblica, la tutela della salute pubblica è uno degli indicatori di civiltà oggettivamente. Quindi ecco che poter contare su strumenti in più che sono capaci di prevenire specificamente determinate malattie, beh insomma certamente fa parte di quella che è un'evoluzione e una valorizzazione della vita umana che non ha precedente. Oggi l'uso dei vaccini fa parte della volontà di raggiungere obiettivi molto ambiziosi. Pensiamo alle malattie già eradicate, quelle che sono in fase di eradicazione. Pensiamo come per esempio la polio sia ormai in tre paesi al mondo e che siamo molto vicini diciamo a vedere quello che è il traguardo finale dell'eradicazione. La polio è stato un incubo della mia generazione stessa. Io avevo pochi anni quando iniziò la distribuzione della vaccinazione. Entrando al Policlinico al Santa Maria della Scala, oggi è un museo ma era l'ospedale di Siena, sulla sinistra c'erano i famosi polmoni d'acciaio, queste scatolone nere con queste testoline bianche di persone infilate dentro per poter vivere, quindi per poter respirare. Insomma ci sono immagini anche del passato recentissimo, devo dire che sono allucinanti, ma anche andando nei paesi in via di sviluppo troviamo molte tracce di quanto è ancora in corso da questo punto di vista. I vaccini certamente vanno compresi, vanno interpretati. Ci sono vaccini che ripercorrono la storia di infezioni che lasciano spontaneamente una difesa permanente per tutta la vita. Pensate al morbillo, l'orbillo si fa una volta sola e così è stato possibile allestire un vaccino che previene il morbillo e lo previene per sempre, perché ripercorre la stessa strada spontanea dell'infezione. Ci sono altri vaccini le cui prestazioni non sono altrettanto incisive, magari occorre ripeterli, pensate ai vaccini anti-influenzali, ma anche altri vaccini, cioè oggi abbiamo introdotto il vaccino anti-pneumococcico nell'adulto, evita le forme gravi, ma non sterilizza. Cioè dobbiamo anche un po' capire che cosa un vaccino ci può dare. Grazie professor Di Perri per aver partecipato a Highway Together. Grazie a voi.